Allora, eccoci di nuovo in diretta, ragazzi, ragazzi, nuova notte, come, 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 un po' di musica, dai, mettiamo un po' di musica di qua, mettiamo questa, allora, stavo dicendo, questi fanno troppo casino la notte, fammi abbassare il volume, fammi abbassare il volume, Allora, ragazzi, questi noi siamo i ragazzi della notte, abbiamo, abbiamo invitato Johnny Chiesu che neppe, e stanno in gioiellina alla nostra festa, dai, che ci facciamo un sacco di risate, minchia, domino, Allora, stavo dicendo, questi non sanno niente, noi siamo i ragazzi degli anni 80, i ragazzi non si esce vivi dagli anni 80, da questi qua si esce, mai si esce zombie, Si esce come i coglioni, con i coglioni e come i coglioni, noi eravamo contro i coglioni, adesso, allora, in ottobro, vedo che questa musica va come un cavallo, noi siamo i cavallieri della notte, siamo i cavalieri della notte siamo, i cavalieri, abbiamo l'unione piramidi come il vero cavaliere, il cavalliere templasco, che è, che fa la prima con Belasco, mi ha fatto vincere pure la palla al culo, mi ha fatto vincere, noi, 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 questi qua degli anni 90, non c'erano nessuno, ahahahhah,� bah, hAHHH eh, Il tiro e la palla al culo, kl au'reehh, bened. Passa la palla al culo. E', e', ne', allora, sto dicendo, questi qua degli anni 90, non c'erano nessuno, degli anni 90, non c'erano nessuno, che cazzo dovremmo fare? hanno perso pure il camminato del mondo. Allora, andiamo a Gianni a chiederebbe un attimo per venire con noi, dobbiamo portarlo i gemmiosi. Quando Gianni, come va? Tutto bene? Stavo qua, stavo con Madonna, stavo qua spettando a Icaro, era caduta un attimo, era un seggiolone, era caduta, mannaggia a te, Icaro, che fai? Stai impegnata, anzi, è trovata la fidanzata, è fidanzata, va bene, Icaro, ci vediamo dopo, un po' a seconda, devo parlare con il buon Morris, il ragazzo degli anni 90 della Rocca, si, ci siamo, gli anni 90, ci siamo solo, questi degli anni 90, non sono nessuno, però quando è uscito uno degli anni 80, gli anni 90 gli ho trovato le malaventi. no, allora, ti tiene ragione a Morris, allora ti avevo detto, noi negli anni 80 non ci riesce niente, i zombie sono loro, e poi non me le pregherò, poi noi si seguono, non seguono, poi non seguono, poi non seguono, poi noi quando ci stavamo negli anni 80, noi ci stavano proprio queste cose, noi tutti collaboravamo e ci portavamo proprio in faccia, non è come qualcosa, non è come una cosa che non ti posso dire con le proprie cose, noi negli anni 80 e tutti inseguivamo e tutti scompisciavamo di manzare, è diverso, capito? Ma Morris, questi vado a non capire cosa, se io che noi siamo i ragazzi degli anni 80, e noi non vogliamo sapere niente da questi soldi, ma questa musica come va con un cavallo? questo è un'ha mannate, non è un'ha mannate, la cosa che è andata, la cosa vegia addomino, no, 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 ma buco, oggi si dimorò, eh, io di moro, va buco. Mannaggia, la multa era, mannaggia, quant'è paruta a colpa, quattro per l'upele, alla prossima, ragazzi. Grazie.